Migranti, rifugiati, richiedenti asilo. Parole che entrano sempre di più nella vita quotidiana. E l'informazione, ma soprattutto i social media, a fornire all'opinione pubblica gli strumenti per comprendere il fenomeno dell'immigrazione. Ma troppo spesso prevalgono i luoghi comuni, se non proprio la disinformazione. E con la disinformazione sono sempre in agguato la paura e le discriminazioni. E quanto emerge da una ricerca su come viene rappresentata l'immigrazione dall'informazione e dai social che è stata realizzata dalle ricercatrice Marika Sabia per il consigliere regionale Giannino Romaniello. Lo scopo lo ha spiegato lo stesso consigliere del gruppo misto in un incontro pubblico. Evitare semplificazioni, capire il dramma di migliaia di persone che arrivano in Europa spinte dalle guerre e dalla fame è la condizione per poterne affrontare tutti gli aspetti dell'accoglienza e della sicurezza. Perché l'immigrazione è un fenomeno complesso, ha detto Romaniello, che va compreso e rappresentato per quello che è.